Apuddara, ovvero la chioccia, è il nome con cui gli agricoltori e i pescatori della Sicilia orientale indicavano le Pleiadi, la costellazione che stagliandosi dietro a montagna, ovvero l'Etna, indicava loro la direzione nel lavoro e nella vita. Oggi è uno straordinario vino a base di Carricante, il vitigno a bacca bianca che meglio di tutti legge l'intensità del vulcano. Meraviglioso colore oro verde, naso profondo ed elegantissimo, si susseguono le sensazioni minerali di matrice vulcanica con i piccoli fiori bianchi e una frutta che tra la mela, la nespola, la susina bianca, coordina e dà vita a un ventaglio olfattivo straordinario. Bocca tagliente di freschezza e mineralità, sapida, profonda, giustamente modulata dall'alcol e chiusa da una intensa interminabile persistenza citrina. Un vino meraviglioso da abbinare da giovane con frutti di mare, primi piatti con vongole, cozze, telline, ma che maturando acquisisce complessità ed è in grado di reggere senza pari abbinamenti con carni bianche e arrosti anche impegnativi dal punto di vista del condimento.